YOLANDA SWEETS Cellulare Fidget Toys, Antistress o Pop It Allora, vi esce comunque la schermata, vi esce qui C'è l'applicazione di Fidget Toys, Antistress, Antistress, Fidget, Swap Cutting, Fidget Toys e Pancake Cart Voglio provare con voi queste applicazioni per vedere come sono e che tipologie di Fidget Toys ci stanno dentro Comunque andiamo a sentire anche i suoni e vediamo se i suoni corrispondono alla realtà di un vero Fidget Toys Prima di iniziare questo video a pollice in su mi raccomando se vi piacciono questi video un po' particolari, un po' strani sui Fidget Toys, Antistress e Pop It Perché sicuramente ce ne saranno altri Ma vi volevo ricordare che ci sarà un nuovo rifornimento sul mio sito E anzi sul mio sito ci sono sempre slime, mandateci a dare un'occhiata e anche le mie magliette e i miei gadget Visitatelo che è www.nialandoswitz.it Ma prima ancora facciamo un gioco, è quello di Indovina la canzone La canzone di oggi è sempre di un cantante di amici ed è famosissima Siete pronti? 3, 2, 1 Iniziamo! Allora vi comparirà la schermata qui, ora non so se sarà orizzontale o verticale, adesso lo vedremo Andiamo a premere e apriamo questa applicazione, vediamo come queste applicazioni di... Oh mamma mia, di Fidget Toys Oh ok, ce ne sono parecchi Ma non so se dobbiamo... Ok vediamo, eccolo qua Oh attenzione, un pollo Ma che cavolo? Ok proviamo proprio un pop it, vediamo che suono fa Ha un... Fa un suono abbastanza... È un suono strano Ragazzi l'unica cosa negativa di questo giochino è che è pieno di pubblicità Quindi questo giochino numero 1 non me lo consiglio Voglio vedere un altro antistress in questa applicazione Poi la tolgo perché ve lo giuro raga Che è piena di pubblicità Non mi piace per niente, c'è questo coccodrillo come lo potete vedere qui Ah sentite Si è chiuso Guardate come fa Oddio che figata Basta questa, non mi piace molto perché è piena di pubblicità Vediamo la prossima che è questa qua a fianco che è antistress Vediamo se anche questa è piena di pubblicità E gli diamo un voto basso Sono carini i fidget toys che c'erano dentro Però secondo me è troppo piena di pubblicità Oh guardate Come il muso È uno slime Sentite, sentite ragazzi Vediamo questo verde Ma sono tutti uguali Ma sono tutti uguali No vabbè adoro Che figo Spinner Oh posso cambiare colore No vabbè ragazzi Questo No No Allora vediamo Vediamo affittatura No Cosa Mamma C'è no ragazzi adoro È bellì Ah ma fa tutto lui C'è devo solo premere Fa Fa tutto lui No vabbè ragazzi C'è tipo adoro Ma è un gioco quindi È un minigame Sono degli antistress minigame Allora questo per il momento È il mio preferito Giochiamo Vediamo Oh ma che Sentite il suono del click Direi che questa applicazione È promossa Voto 10 È uscita una sola pubblicità In tutto il tempo che ci ho giocato Questa qua Questa qua Friget toy Non mi piace Minimamente Vediamo quest'altra terza Antistress Il gatto Vediamo un po' Cos'è Oh che carino C'è il gatto che fa le fusa Ragazzi Oh che carino Ti dà pure i punti Guardate come fa l'impasto il gatto Devo dire che Anche questo gioco Perché io poi Ovviamente Voi vedete i dettagli E perché escono ovviamente Le pubblicità Questo anche non mi piace Voto Voto 3 Non mi piace Vediamo questo qua Fidgets Vediamo un po' Io voglio provare Ragazzi ce n'erano un botto di applicazioni Oh mamma mia Che roba è Ah proprio Ah Sentite 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 Wow Vediamo Vediamo i bottoni No vabbè Ma è bellissimo Aspettate Oddio oddio Me lo sono perso Aspettate Scherzate No vabbè No vabbè C'è Ma si può Ma si può scegliere C'è lo spinner C'è il pop it Attenzione No ragazzi Allora per il momento Questo pop it qui Ha il suono più realistico Di tutti Ora ditemi voi Quale applicazione Vi è piaciuta di più Tra queste 10 a questa applicazione Perché I suoni I suoni Sono davvero realistici Cioè Io adoro Vediamo il soap cutting E Lì non mi sono uscite pubblicità Quindi voto 10 Assolutamente A questa applicazione Ma che cavolo Oh my gosh Ragazzi Ah no E' uscito un coniglio No vabbè Ma di cosa stiamo parlando Va a livelli Next level Vediamo se esce la pubblicità Ragazzi No Perfetto Bellissimo No raga E' troppo soddisfacente Ve lo giuro Perché non l'ho scoperta prima St'applicazione Ma di cosa stiamo parlando Sentite il suono Sentite il suono Abbiamo scoperto Un gatto Madò 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 raga E' bellissimo Il suono poi C'è un basotto Ma è un basotto Ma che meraviglia Quest'altro Di fidget toys Anche qui Secondo me Usciranno Tante pubblicità Qualcosa Me lo sento Vediamo Sentite Wow Ah ci posso Posso cambiare Lo sfondo No vabbè Sentite il suono Ragazzi Quanto è rilassante Da 1 a 10 Questo suono Ditemelo L'ultimo Di questa applicazione Ah bisogna girare Ah Ma E' così L'ultimo E' per fare La pancake cart Vediamo La mia batteria Del telefono E' scarica Vediamo un pochettino No vabbè Che figo E' un giochino Che questo Ah No Devono mettere Like Non dislike Ok Bisogna tenere Premuto Ah guardate Si così No vabbè No vabbè Develo giuro E' bellissimo Sembra Schiaccia per girare Sii Pollice in su Ma è carino Praticamente devi Poi Andare avanti Con i livelli Penso Per fare Altre pancake cart Vediamo un po' Questo secondo me Questo secondo me E' instagram E' instagram Praticamente bisogna tenere sempre premuto In pratica E' carino Però credevo che Dovessi fare Più cose io E' instagram Un po' E' carino Carino Mi piace Voto otto e mezzo Però credevo che dovessi fare Più cose io Ragazzi Allora Che dire Oggi abbiamo provato Applicazioni Per cellulare Di figgettois Alcune ve le consiglio Altre no Soprattutto quelle con tante pubblicità Quelle che abbiamo provato all'inizio Non mi piacciono minimamente Quindi anche no Non ve le consiglio Voi avevate scaricato Qualche applicazione del genere Sul vostro cellulare Fatemelo sapere giù nei commenti Io vi mando Un bacione E un abbraccio forte Noi come sempre ci vediamo Domani alle 14.30 Con un nuovissimo video Bye bye